Semifinale Mitropa Cup, l'Alex Team batte 4-3 il Canegrati al Golden Goal Golden Goal di Alessandro Bellin che è anche il migliore in campo Adesso siete in finale, dopo un pessimo inizio di torneo, ormai cosa vi proponete? Sì, siamo partiti molto mali, la squadra ancora non era... Non avevamo i giocatori giusti, piano piano la squadra l'abbiamo messa abbastanza a posto Siamo arrivati con i giocatori fissi, arriviamo finalmente con 7-8 giocatori tutte le partite Con i ricambi giusti e la partita di oggi è stata una partita molto equilibrata Poco sofferta ma l'abbiamo giocata, sono giocata tutti e due Alla fine al Golden Goal è uscito un gran gol e per fortuna ci abbiamo fatto arrivare in finale Quindi buona finale, a sabato prossimo Grazie, speriamo di arrivare fino in fondo